Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel canale Artallegra. Quest'oggi realizziamo un contorno della mia tradizione familiare. Si tratta della parmigiana che un'amica di mia madre le aveva insegnato. Io l'ho battezzata Parmigiana Maiure in onore a lei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco la mia parmigiana che mi ricorda tanto la mia infanzia, mi ricorda tanto la signora maiore. Con questa ricetta io vi saluto. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici. Noi ci vediamo con una nuova ricetta nel canale Artallegra. Ciao e una buona giornata a tutti!